Ecco il parco, questo è il parco dove sarò in giro con Tyson, Pasqualino o quale altro nome gli metterò, non ho ancora deciso, forse Attica. E questi sono i codici che ho preparato per lui. Ecco qua, il guanto per potergli sistemare il pelo, farlo lucidare, un frisbee professionale fatto da un tipo che è allevatore di cani ma anche campione di frisbee e dunque voglio proprio vedere che cosa insieme potremmo fare. Una bellissima pettorina professionale per cani da salvataggio in montagna, ecco qua la streccia che così si vede anche di notte, la pulizia subito, visto che mi hanno detto che sarà un puzzone anche per il viaggio il poverino. Poi abbiamo il Kong, il Kong voglio vedere, lo filmerò e poi ve lo farò vedere e quanto tempo ci metterà a capire, a capire, circa solitamente si parla di circa 20 minuti nei blog americani che parlano di bull. Poi abbiamo un lettino, in realtà il lattino è un po' piccolo però l'avevo preso per pacchi, povero cucciolo, ma penso che lui si adatterà, casomai metterà le zampe fuori, ma non mi sembra molto lunga quelle zampe. E poi una copertina impermeabile sopra di qualcosa, fammi vedere, fammi leggere, lo sapevo eh. Ah impermeabile nel retro in modo che lo possa appoggiare sul tappeto e anche i primi giorni se magari ha qualche problema o comunque sempre comodo da averla. Boh, per il resto direi che ci siamo. Una mangiatoia da viaggio. Dopodiché questo è il suo punto dove mangerà. Bene, direi che ci siamo. Ormai ormai è fatta, sta per arrivare, sta per arrivare ancora 15 ore, ci sentiamo più tardi o un altro giorno quando lui arriverà. Ciao a tutti!